ecco il software mysunet software che si presenta adeguato per qualsiasi macchina da ricamo di tutte le marche questa è la versione platinum che comprende tutti questi moduli di lavoro scorrendoli velocemente c'è l'express design per creare automaticamente da un'immagine un file vettoriale un ricamo il photo stitch che trasforma una foto in ricamo l'express monogram bellissimo crea dei monogrammi con delle cornici il world sculpt questo andremo a vedere velocemente crea data una forma preesistente o novità di adesso anche creabile da noi delle scritte che si adattano la forma blocco di quilt per gli amanti del quilt ecco che in un attimo creeremo delle piastrelle per poter trapuntare i nostri progetti spiro è veramente creativa con piccole leve potremmo andare a creare tantissime forme di lavoro in cucitura red work di cucitura tripla anche questo ottimo per ricami semplici lineare o trapuntature albero generologico riusciamo a creare il nostro albero della famiglia con tutte le foto dei nostri cari project in the hoop tanti progetti che si possono creare automaticamente direttamente sul telaio tantissimi inseriti nuovi da poter scoprire digitizing è il modulo chiave quello che crea e trasforma immagini anche difficoltose in ricami mediante procedura guidata o procedura automatica punto croce trasforma i nostri immagini o progetti in punto croce sketch molto carino trasforma tutti gli nostri schizzi direttamente in ricamo facilissimo da utilizzare partendo dalla dal modulo bianco andiamo selezionare il nostro telaio ecco potremmo sbizzarrirci a creare ciò che ci interessa vedete che ci sono tantissime funzionalità tutto è interattivo e si collega uno all'altro non dovremmo spegnere e riaprire finestre ma tutto verrà direttamente all'interno di questo modulo ulteriore novità ora è possibile acquistare l'aggiornamento al premier gold o silver anche da software precedenti quindi contattatevi per la vostra offerta personalizzata per poter ottenere questo fantastico software ciao da marilena contattatemi per qualsiasi informazione a info chiaccia la macchina per cucire dei min punto com